Allora, vediamo un po', qua iniziano a comparire, partiamo dalla Mars, fiori maschili e femminili, eccolo qui, prefiore piccolino, prefiore femminile, cominciano, ok, qua, peperoncini, habanero, una bella seccatura, non so che cazzo è successo, comunque, sarà anche il freddo, cucinella, cucinella, qua, la scinoa che pian pianino va anche lei, lentamente se ne si sta, sta andando, piano piano, ovviamente, questa è perché la famosa pianta clone, pianta mostro, qua, inizia a sparare fuori i fiori, piccoli fiori, qua, me ne ha fatti addirittura, su questo ramo ne ha fatti due, sulla punta, io ne ho tirato via uno, qua ce ne erano due, qui, c'erano due fiori, due, due cose lì, e qua sta producendo un numero devastante di rami, i fiori femminili a come ci fossero, andiamo a vedere la, andiamo a vedere la, andiamo a vedere la Nordpunt, i peperoncini devastati qua, non so che cazzo c'è successo, guardate che schifezza, qua sembra che si sta riprendendo, questo è l'unico che un attimino sta andando, eh, fiori, pomodori giganti alla grande, il suo paletto, guardate qui che belle piante, vanno tutte bene, l'arpus qua, questa va già veramente bene, questa pianta qua va veramente bene, andate che, mi sposto, ecco, questa, bella regolare, niente, niente, niente fiori ancora, femminili, eh, ha fatto brutto tempo, guardate qua, un po' di erbace, freso, quando c'è tempo, magari domenica, comunque tutto sembra andare, anche col freddo funziona, aspettiamo che venga un po' di caldo, un po' di metri quadrati, sennò qua, siamo rovinati, ok, boom, tanti saluti a tutti quanti, aggiornamento, eh, siamo ai primi di giugno, pomodoro, ciao a tutti,